Siamo dunque alla pagina sportiva dal Corriere dell'Umbria, il Grifo di nuovo in emergenza, periodo delicato, assenti Felicioli e Cremonesi, acciaccati Bianco, Verre e Melchiorri, Nesta, campi pesanti, difficili a recuperare i giocatori. E poi c'è tutta una cherella in seno al Volley Perugia, parla il presidente della Sir, Sirci, il palazzetto, forse nel 2029, è furibondo Gino Sirci dopo la riunione in comune, perché? Perché sembrerebbe che non sarà facile avere questo ampliamento del palazzetto dello sport da qui ai prossimi mesi, dice Sirci. Il palazzetto, scordiamocelo se va bene, lo avremo nel 2029. Ricordiamo, il palazzetto dovrebbe passare dai 4.000 ai 5.000 posti, cosa che consentirebbe di organizzare anche manifestazioni di carattere internazionale come la Champions o di ospitare anche la nazionale italiana. Il problema però è che su questo ampliamento, dice Sirci, che dovrebbe costare l'ampliamento 1.200.000 euro, sono intervenuti altri lavori da effettuare secondo il comune, tipo la videosorveglianza, la ristrutturazione delle arcate, una nuova illuminazione, cose che non erano previste inizialmente, che attualmente non vedono la copertura economica e quindi, dice Sirci, questo mina la possibilità reale di un ampliamento immediato. Un ampliamento che lo si voleva entro il periodo dei play-off che però sono ad aprile. E allora cosa dice il patron? Porto la Sir a Roma per i play-off, disposto a pagare Pullman, biglietto e persino la cena a tutti i tifosi. Vedremo come finirà. Andiamo, torniamo al calcio, andiamo in Serie C, Ternana, bene così non devi subire gol. Il difensore Fazio punta la fermana, guardiamo alla vetta. E poi andiamo a Gubbio, Marchi ribalta Notari, il centroavanti del Gubbio e le sirene, mi vuole il Monza, deciderà il presidente. La mia scelta l'ho fatta a suo tempo, risponde Pannacci, è d'obbligo valutare bene la situazione. E poi andiamo a parlare di arbitri, pinti in testa con il 6 preso in diretta TV, alla media più alta e non sfigura Ellera nel match trasmesso da B come sabato di Rai 2. Andiamo al messaggero, Grifo, SOS, Campi, Nesta non ci sta. A Lecce, Out, Cremonesi, Bianco e Melchiorri, Arrischio Verre, il tecnico, Curi e Antistadio, pesanti, urgono altre soluzioni. Gubbio e Marchi al passo d'addio, titola il messaggero e poi Sir e Bartocini, derby solidare per Jack Sintini. Andiamo a Terni, guerra di cifre per i liberati, l'assessore Dominici replica a Patron Bandecchi sulla vendita, bene l'interesse di Unicusano ma lo stadio vale molto di più. Spoleto, lite per le luci dello stadio, al comunale, fari accesi per tutta la notte, il comune attacca la società, sprechi che non sono tollerabili. E poi siamo alla ginnastica ritmica, piace il nuovo corso della Fenice, terzo posto nella Serie C nazionale Gold, siamo a Spoleto. Andiamo al nuoto, sempre da Spoleto, Andolfi brilla i tricolori, undicesimo posto personale e poi per il Giro d'Italia siamo a Foligno, ciclocross Brufani, terza in Puglia. Ancora basket, l'UBS Foligno, la scalata passa per la vittoria nel derby. Chiudiamo con la Nazione, da Perugia, Grifo al top, se caliamo rischiamo figuracce, parla Nesta, parla dell'emergenza giocatori, campi pesanti, recuperi difficili, saranno cinque partite delicate. Intanto Bianco e Melchiorri sono a forte rischio, Cremonesi è out. Ternana, Fazio suona la carica, pronti a battere la fermana, il difensore non vuol sentir parlare di crisi, l'umore dice è alto. Lega Pro a Trieste, con rispetto, ma siamo fiduciosi, parla Mr. Galderisi e su Marchi qualsiasi eventuale richiesta sarà valutata solo da notari e pannacci, dice Marchi. Ancora la Sir Perugia delle new entry, Bucciarelli, un sogno essere qui, parla il centrale Folignate, rubo con gli occhi dai campioni. Basket di serie D, domani la sfida, Virtus, Terni ed Ellera, basket di serie C Gold, la Lucky Wind, si aggiudica il posticipo con il Perugia, 88 a 78. Il volley di a due femminile, la Zambello e Orvieto non si ferma più e resta al terzo posto. Il tennis, il campionato adesso entra nel vivo, parliamo della targa Umbra, seconda serie maschile. Questo per le pagine sportive ed ora la copertina del nostro meteo. Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto. Allora il meteo, cominciamo con la giornata odierna, una giornata che si apre con cieli nuvolosi, soprattutto in alcune zone del territorio regionale. Nel corso della giornata sprazzi soleggiati, senza rischio di precipitazioni, se non isolati i piovaschi, ma di breve durata in Appennino. In serata aumento della nuvolosità, con piovaschi su tutto il territorio regionale. Le temperature sopra la media del periodo, le minime 2,5, le massime 12,14. Andiamo a vedere la giornata di domani, come sarà. Si aprirà su tutto il territorio regionale, con cieli nuvolosi e locali rovesci, soprattutto in Appennino. Nel corso della giornata, una diminuzione della nuvolosità, con nuvole transitorie, che dunque non produrranno nulla di granché. Nebbie di primo mattino e in tarda serata su tutte le pianure. Le temperature abbastanza stazionarie, come oggi, saranno tra i 2 e i 4 gradi, tra gli 11 e i 13. Cosa accade domenica, 9 dicembre, scusate, una domenica che inizierà soleggiata sui principali centri della regione. Ma avremo un aumento della nuvolosità in tarda mattinata e primo pomeriggio su tutto il territorio regionale, con piovaschi sparsi a partire dai settori ovest della regione, in estensione per tutte le altre aree locali rovesci, con precipitazioni più insistenti in Appennino. Le temperature sono tra i 3 e i 5 gradi, quindi continuano ad essere alte, e tra gli 11 e 13. È tutto, vi ricordo allora l'appuntamento oggi ore 17.30, diretta a TRG, per seguire l'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo. A voi una buona giornata. A voi una buona giornata.